Vi ha detto qualche giorno fa, parlando di infortuni, che bisogna sopravvivere fino al 13 novembre. Io le chiedo intanto come si sopravvive domani sera, visto che la Roma deve solo vincere. E poi, visto che è stato accolto a ricorso di Zaniolo, come sta se è recuperato, visto che aveva quella contusione subita a Verona? Se non vinciamo andiamo in Europa League, in Conference League. Andiamo in Conference League, però non vogliamo, vogliamo andare in play-off. E se pensiamo così, è una partita dove solo abbiamo un risultato, giochiamo solo per un risultato che è vincere. Partita difficile, difficile perché esiste questa pressione, però difficile anche per l'avversario, chi ha vinto contro di noi. E ha vinto in una partita dove noi abbiamo giocato serio. Ho cambiato portieri e praticamente abbiamo giocato con le prime scelte in questa partita, non è che abbiamo giocato con la primavera. Però penso, stadio esaurito di nuovo, penso che si può creare un ambiente di partita decisiva come l'anno scorso, con Bodo, con Leicester, con Vitesse, queste partite che tu sai che se non vinci sei fuori. E creando questo tipo di atmosfera, con la motivazione dei ragazzi che vogliono continuare in Europa League, che possiamo fare. Zagnolo, penso giustizia, perché tre partite per una cosa che sarebbe come massimo una partita, nella mia opinione, la UEFA, il suo comitè di disciplina, ha fatto giustizia. in questo senso è importante per noi, perché prima di tutto per questo senso di giustizia, e il secondo perché è un giocatore che può aiutare a vincere. Adesso, prima dell'allenamento, non sono capace di dire che si stara per giustizia o non, perché veramente il suo ematoma era grosso, il dolore è importante ieri. Vediamo oggi come si sente, però mi piacerebbe averlo a disposizione. di domani, domani, prima, vorremmo, 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 che datata è 30 noembre, come con contusiite, perversi i problemi. come è Zainio, se si è successo con l'estrano. E di altra strana, più importanti è l'utrano come se spavano con Lodogorec, se si spavano con Lodogorec e l'escrizione di Mourinho, che se non si spavano in Ligata di conferenziati, ma noi chiamamo in Europa Liga. E gravamo in un molto serioso in un'utbore, in cui avevamo in difficolti, in cui avevamo in un'utborec, e in quello che avevamo in un'utborec, non con la primavera. Ho cambiato i vratari, ma non mi piaceva, avevamo in un'utborecchi. E mi penso che si è successo un'utborec match, come con Lodogorec, come con Lester, come con Vitezz. Do quali ho spavano, il stadion è pieno, motivazione è piena di futbolisti, tutti si chiamano da perderemo con l'escrizione di Zanio, ma credo che aveva un'escrizione di 3 matcha di UEFA, ma non posso dire che vedo il primo trattamento, che è un'utborecchia, ma è un'utborecchia, ma è un problema, ma è un'utborecchia, ma è un'utborecchia e così, e così da posso pomagare. As Roma.com, Serafini. Buonasera mister, vi chiedo, in questi ultimi giorni si è parlato tanto di questa partita come una finale, si è parlato probabilmente poco dei nostri avversari, del Lodogorec, che Lodogorec si aspetta domani, e soprattutto quali possono essere le differenze rispetto alla partita d'andata? Mi aspetta un Lodogorec che gioca per due risultati diverso da noi. Per loro ci sono due risultati, per noi c'è solo uno, e questo fa una differenza ovviamente. È una squadra che è pericolosa in contropiede, che ha giocatori veloci, in una squadra che ha giocatori veloci si può difendere di più, perché ha sempre questa soluzione di fra virgolette essere dominata e poter sempre creare delle situazioni pericolose. E' questa principalmente la differenza, è una squadra che gioca solo per un risultato e un'altra gioca per due. Però, come dico, magari è meglio per noi. Nel senso di... Sappiamo che dobbiamo correre dei rischi, sappiamo anche che abbiamo un stadio che non è piccolo dietro di noi. L'ambizione dei giocatori non è vincere la Conference League di nuovo, non è questa l'ambizione dei giocatori. L'ambizione dei giocatori è andare ai play-off, anche se sappiamo che in Europa League ci saranno delle squadre che sono squadre per vincere la Champions, non per vincere l'Europa League. Però è lì che vogliamo andare. E andiamo lì domani senza pensare a nessun altro, non pensare a nessuna partita in più, non pensare a quello che abbiamo fatto là, pensare che domani abbiamo una partita che dobbiamo vincere. è importante per noi la ultima vittoria in campionato, perché tornare a casa dopo la sconfitta con il Napoli, tornare a casa dopo una vittoria si respira la positività di un modo diverso. E andiamo con tutto. Non è una partita facile per noi, però non è una partita facile per Ludovorezzi. La questione è una partita di Lomboli, è proprio come finale. E per questo piacciono a farlo, veci come 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 l'adgole in Bulgaria, ma come come l'adgole in Bulgaria? Ma non è l'adgole in Bulgaria, ma l'adgole in Mlomari, l'adgole è che noi dovrebbero imparare solo per la победa, che gli hanno andato due risultati, quindi che gli hanno potono di si siano iniziative. Le sono buoni fottoni, in quanto riguardano con l'abili, potrebbero giocare con questa cosa. Inoltre, trebiamo sempre da rischiare, ma questo è più bene, per noi può essere un plus. Non è un'ambizione di futbolisti, che non hanno voglia di perdere ligata in conferenziati. Iniziano a la playoff, a la playoff, perché si è stato fatto una Liga per la Liga quindi questo è il nostro amore inizio. Abbiamociato il match, in cui abbiamo perduto l'Apolo, ma si è razzato, in cui abbiamo fatto il match in Rima e ciò non si è un positività e sperimenti per l'escrizione per l'escrizione, dove c'è molto pubblica, nella stagione che vogliamo. Zotti, la Gazzetta dello Sport. Quante manca? Tre, quattro. Buonasera mister. La domanda è su Abram. Giovedì scorso è tornato a segnare, però in generale mi sembra sia passando un momento abbastanza particolare. Domenica ha sbagliato un gol, che per un attaccante come lui è abbastanza clamoroso. Anche la sua espressione in panchina mi è sembrata eloquente. Le volevo domandare, per un allenatore esperto come lei, come si può aiutare un giocatore in un momento, magari non semplicissimo, continuando a dargli fiducia, quindi mandandolo in campo, oppure concedendogli un turno per riposarsi, rifiatare, chiarirsi le idee e poi rimandarlo in campo al derby concedendo una chance a Belotti, magari? Io ai miei giocatori da sempre dico sempre che per me il portiere che sbaglia clamorosamente in un'azione, l'attaccante che non sta segnando, il difensore che sta commettendo errori, questo per me è tutto secondario. Per me la cosa principale è l'atteggiamento, pensare alla squadra, lavorare serio e non piangere con i momenti difficili e avere coraggio di tornare a fare. Ti do l'esempio, Pellegrini ha sbagliato il rigore contro Empoli, un rigore che poteva essere decisivo, era 2-1. Il rigore successivo era anche un rigore decisivo per noi e ha avuto il coraggio di andare, ha segnato. Se non segna, non è un problema. però è andato, ha voluto andare. Io di Tami nell'ultima partita non lo so che espressione tu hai visto nella mia faccia, però sicuramente non ha visto l'espressione di uno che è arrabbiato. Sicuramente non ha visto questo. Io ti dico di più, sono molto contento con la partita che Tami ha fatto a Verona. Ha sbagliato due due gol, sì. Uno è porta aperta, il secondo è stato bello perché ha fatto un'assista a Zaniolo, però per me non è un problema. perché il problema era quando lui in qualche partita all'inizio di stagione si vedeva un Tami un po' non super concentrato, però adesso no. Adesso lavora tanto per la squadra, sta creando problemi suoi avversari, sta giocando un gioco di squadra. e giocatori non sono ancora che gioca, che non gioca, però come tu nella tua domanda mi ha detto, che si fa? Sida, Reposo, Sifà, Giocari. Sifà, Giocari. Sifà, Giocari. Võprosa bese su Tami Abraham, tue kato in последnita match ne uspia da odbligare, ne znam come da se pomogne a un giro 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 e eventualmente da bude smanen od Belotti e odgolda Mourinho e che nama значение dali vratarita dali 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 vratarita dali 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 ti dali 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 come se con qu'è con qu'è l'Isa da giocare, come lavorano su treningi, da, per esempio con Pellegrini, che è spettato Dospa sremmo M-Poli, ma dopo ho avuto ho avuto il желaggio che iniziavano, iniziavano e la carola, quindi non solle come funzioni ha vedo ma in alcun caso non sono i adosano, ma non solle che c'è chiama, che c'è l'agra è molto bene in Verona. Non si può fare un asist, un asist, un asistencia. Inizia inizia, inizia inizia, inizia un asistencia, inizia inizia un problema, ma inizia un problema. Inizia inizia un'utbore, un'utbore, un'utbore. E' un'utbore, un'utbore, un'utbore. E' un'utbore, perché non sapeggio che non sapeggio. E' un'utbore, è un'utbore. Dubaldo, Corriere dello Sport. Lei ha detto tempo fa di non aver mai lavorato con così tanti giovani, perché è sempre stato abituato a lavorare con squadre di campioni. Adesso, aver lanciato tutti questi giovani in prima squadra, che sono giocatori che hanno anche, dal punto di vista patrimoniale, fatto una crescita. Lo ritiene un motivo d'orgoglio e lo ritiene che sia, da questo punto di vista, il compito più importante che ha fatto, cioè quello di lanciare i giovani nella sua carriera. Forse, in altre occasioni, non ne ha avuti così tanti numerosi. Ne ha avuti tanti bravi, ma non così tanti numerosi. Questo può essere un motivo d'orgoglio e se, con questa possibilità di tutti questi giovani che stanno lanciando, in particolare adesso colpato che stanno con la vista a Verona, è più fiducioso dall'apporto che possono dare questi giovani nella squadra, più preoccupato dai titolari che segnano poco. No, io non ho mai avuto tante necessità di fare crescere e giocare giovani, però questo non significa che io accetti bene il fatto di tanta gente dire che nella mia carriera ho lanciato pochi giocatori giovani. Non sono pochi e sono bravi, tanti bravi. Qui è un po' necessità, però è anche un po' conseguenza di profilo di lavoro nostro. Come tu hai visto anche con un esempio questo di Volpato. Non è che io sono un eroe per dare l'opportunità ai giocatori. Eroi o stupido, se tu metti dei giocatori che tu senti che non stanno preparati per. Così o sei un eroe perché rischia o sei uno stupido perché fa giocare i giocatori che non sono preparati. Questi giocatori vanno tutti praticamente… è un processo. Prima è un giocatore che è solo di primavera, dopo è un giocatore di primavera che si allena con la prima squadra, dopo è un giocatore di prima squadra che ogni tanto vai a primavera per giocare perché là può avere dei minuti che qua non ha. Dopo diventa giocatore di prima squadra e dopo aspetta che l'opportunità arriva. E questo è un processo dove quando arriva il momento di giocare esiste fiducia della mia parte, esiste anche una certa fiducia che può compensare il nervosismo del giocatore che fa il suo debutto, che gioca per prima volta o per la seconda volta. e questo mi fa piacere il processo. Per il club è ovviamente importante, per tutti i giovani che sono là è importante avere questo feeling che la porta è aperta e la mia ora può arrivare. e veramente fa piacere. Non solo a me, ma anche ai giocatori di prima squadra fa piacere perché si sente e si vede che loro sono felici quando un bambino debuta, quando un bambino fa bene, quando Volpato fa il gol della vittoria. è un gruppo che anche aiuta questi ragazzi giovani a crescere. E vivere questo qua mi fa piacere. Tu hai finito la tua domanda con se ho più fiducia nei bambini? No, dicevo se gli fa più piacere questa crescita dei giovani che danno il loro apporto alla squadra oppure sei più preoccupato invece dagli attaccanti titolari che segnano poco. Guarda, io voglio vincere partite e non sono troppo preoccupato con A o con B. Quando perdiamo è diverso, quando vinciamo io sono contento. Mi fa ovviamente piacere che i bambini fanno bene e mi fa anche un grande piacere l'atteggiamento dei miei attaccanti che in questo momento non stanno segnando tanto. o no il sufficiente. Mi fa piacere il loro atteggiamento. Bellotti nell'altra partita, non ha fatto lui il gol della vittoria? No, ha fatto Volpato. Però l'atteggiamento di Bellotti è il problema che ha creato l'avversario. Come si dice, il coraggio di prendere una botta forte, di venire con il sangue, di venire con la faccia ferita, gonfia. Per me l'atteggiamento è il più importante di tutto. Quando l'atteggiamento è buono, le cose cambiano e faranno i suoi gol. E per me non sarebbe una sorpresa si domani e farà gol. Perché il paio di gol di ballati ha fatto una partita di lavoro, di squadra, di atteggiamento. E questo per me è la base di tutto. Grazie. 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 La questione èację能are sempre ai stai oppilhing dal modi giochi di ai réaliso? Ja fa Index pagate siamaal di giochi dell'attro? Non sì, strana, si è ritencivati per questo, che titularità ne abilaggiano. Il risultato di Mourinho è che lui in carriera si non ha avuto la possibilità di ragazzi, ma che in questo momento si occupa i ragazzi, non lo faccio un giovane, non senti orgoglio di questo. È proprio un profilo di lavoro, è un profilo sono un progetto. Inначano i ragazzi in grado in Primavere, poi si trenirano con primi l'obietti e in qualche mancia in primi l'obietti e poi potrebbero essere tornati in primi l'obietti e per la prima l'obietti. E' paziente, questo credo che in grado si sono davanti in seriosi fettibili fettibili. E' eri stranato, sono davvero da cattiva che tedi ragazzi non sono uno e due, ma te sono una squadra sono una squadra staccionata, i ragazzi non togliamo ai d'arguardo di rio sono davvero che sono davvero attraversi non che non se si ne avarano non che non che per l'offano non era un uomo che era una crescita e facevo anche il mio a qui tutto è un'escriviti è un cittante Grazie. Volevo sapere se sei pronto per giocare dal primo minuto e che impatto sta avendo un giocatore del genere anche sui giovani, perché Volpato ne ha parlato dopo la partita, che impatto sta avendo un giocatore così importante per esperienza su una squadra relativamente giovane? Per primo il suo esempio sono questi tipi di esempi che i giocatori più giovani mangiano di un modo positivo o negativo. Un giocatore di 34 o 35 anni è infortunato, però vuole stare per aiutare. È infortunato di nuovo e vuole stare di nuovo per cercare di aiutare. Aiuta un giocatore giovane che vive a fianco di questi tipi di giocatori. È un'absorzione più facile di quello che è essere giocatore di squadra. Quando Nemania viene qua, viene qua perché io lo conosco bene e sapevo esattamente quello che dici tu. Non è solo quello che lui può fare ancora in campo, è anche quello che lui può fare in questo tipo di situazione. Se Volpato sta parlando di Nemania già come questo tipo di referenza, immagina Tarovic che parla lo stesso idioma di Nemania, che gioca nella stessa posizione, che stanno insieme per il primo allenamento, durante il allenamento, dopo il allenamento. Tu puoi capire quello che può significare per uno come Tarovic giocare come Nemania. Vediamo oggi come sta, come sta, si può giocare domani titolare o no, se vogliamo chi gioca titolare o no, però sicuramente starà domani, è uno che si può stare, starà sempre. Ho detto già che gioca Tami, Stefan gioca perché qua solo mancano nuove. Vai. Ciao.